Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di Mendeley. Mendeley è un software per la gestione dei contenuti dei riferimenti bibliografici, quindi permette di archiviare e organizzare citare articoli e altri documenti appunto sotto forma di riferimenti bibliografici. Cerchiamo l'applicazione, dopodiché apparirà la seguente schermata. È importante dire che l'applicazione dispone di una versione sia web ma anche di una versione desktop che è disponibile sia per Mac che Windows che Linux e per scaricarla appunto bisognerà cliccare sulla voce download e procedere appunto con lo scaricamento dell'applicazione. La registrazione è prevista e può avvenire solo tramite l'inserimento della propria mail e la versione gratuita permette l'archiviazione di pdf fino a 2 giga. Quindi dalla schermata home dell'applicazione potremo procedere con la creazione del nostro account che appunto è gratuito oppure cercare vari articoli o documenti tramite la barra di ricerca oppure come dicevamo prima effettuare il download dell'applicazione. A questo punto per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione basterà trascinare i file per aggiungerli alla propria libreria oppure cliccare su aggiungi nuovo e decidere poi se inserirli appunto manualmente oppure importarli dal proprio computer. Inoltre con la versione desktop si può installare il plugin web importer che consente di raggruppare tutti i riferimenti bibliografici che troviamo online come pagine web documenti e quindi per poterlo installare bisognerà cliccare sulla voce tool in alto e cliccare su installare il Mendeley web importer e come potete vedere è possibile scaricarlo per chrome, firefox o edge e tramite questa funzione ogni volta che troveremo documento online si potrà salvarlo nella propria libreria cliccando sull'icona dell'app che apparirà per esempio su chrome apparirà in alto a destra ora vedremo come ok eccoci qui quindi ogni qualvolta troveremo un documento un articolo che vorremmo salvare andremo a cliccare su questa l'app di Mendeley che abbiamo preventivamente ovviamente installato come estensione di chrome e dopo di che una volta aggiunto sarà poi possibile leggerlo dalla nostra dashboard e inserire anche i tag piuttosto che vedere l'url e così via un altro strumento che mette a disposizione l'applicazione è invece Mendeley site for microsoft word e praticamente sempre dal menu dei tool in alto andremo a installare Mendeley site per microsoft word e una volta scaricato diciamo che la libreria di Mendeley viene scaricata dal cloud quindi non è necessario poi avere Mendeley desktop o Mendeley reference manager aperti da qui quindi sarà poi possibile cercare i riferimenti nella propria libreria Mendeley e inserirli poi nel documento di word inoltre è possibile esportare la propria libreria di Mendeley sul pc in vari formati come potete vedere sempre cliccando su file in questo caso dal menu in alto ecco qui per esempio è stato caricato un articolo quando ci cliccheremo sopra e potremo risalire all'url da dove appunto siamo andati a salvarlo aggiungere by tag o file e leggerlo il video tutorial è terminato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti